Qui a Fatima i cuori di tutto il mondo si sono uniti con il Papa nella preghiera del Santo Rosario. Nel quarto mistero in particolare si è pregato per la pace, affidandola alla intercessione della Madonna. Nella cappella delle apparizioni, circondato da circa 200.000 persone insieme ai malati e a un piccolo gruppo di detenuti, ha ribadito che la Chiesa è accogliente, senza porte, dove tutti possono entrare. La Madonna è madre, accoglie tutti, senza esclusioni, Maria è affrettata, ha detto, mostrando l'ansia di aiutare la vocazione della Madre di Dio che si affretta per sua cugina, per suo figlio, per venire ad aiutarci. I due gesti della Madre Santa, ha sottolineato il Papa, sono accogliere tutti e indicare Gesù. Francesco ha invitato a guardare l'immagine di Maria, a chiederci cosa ci indichi, ad affidare le preoccupazioni e di interessi, a sentirla presente nella consapevolezza che lei ci indica il cuore di Gesù e a Gesù, che ci ama a tal punto di chiederci di collaborare con Lui, Maria indica il nostro cuore.